Il comune impegno delle autorità e dei fedeli delle grandi religioni per la pace nel mondo, il rifiuto della violenza e del terrorismo e la situazione dei cristiani nel contesto dei conflitti e delle tensioni del Medio Oriente e la loro protezione sono stati al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar, professor Ahmad Muhammad Al-Tayeb. Rettore dell'università di Al-Azhar, del Cairo e grande imam della moschea, Ahmad Al-Tayeb è considerato uno dei massimi esponenti dell'islam sunnita moderato. Il grande imam era accompagnato da un'importante delegazione di Al-Azhar e dall'ambasciatore della Repubblica Araba di Egitto presso la Santa Sede, Hatem Saif el-Nasr. L'imam Al-Tayeb è stato accolto e accompagnato dal pontefice, dal presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interligioso, cardinale Jean-Louis Toran, e dal segretario dello stesso di Castero, Monsignor Miguel Angel Ayuso Guxiot. Il colloquio, molto cordiale, è durato circa 30 minuti. Il Papa e l'imam hanno rilevato il grande significato di questo nuovo incontro nel quadro del dialogo fra la Chiesa Cattolica e l'Islam. Il Papa ha regalato al grande imam il medaglione dell'ulivo della pace e una copia della sua lettera enciclica laudato sì.